Salve gente, per la nostra attenzione nei giochi di carte oggi vi faccio vedere una versione di Ramino molto diffusa in Italia, tant'è vero che ha un suo regolamento, una sua federazione ufficiale. Parliamo di Scala 40. A proposito, noi useremo apposta le regole scritte ufficialmente dalla federazione. È un gioco molto diffuso, diciamo in Italia, che si è diffuso dopo la prima guerra mondiale, anche se in realtà pare importato dall'Ungheria. A noi ci piace molto. Ricorderà il Ramino per certe cose, ma avremo delle differenze. Prima di iniziare a vedere tutte le regole, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, attivate la campanellina così rimarrete sempre aggiornati sui nostri prossimi video. Iniziamo con alcune informazioni di base importanti. Nel gioco avremo dei termini importanti e specifici che sono il mazzo di carte che viene messo coperto da questi peschi che si chiama il pallone, il mazzo degli scarti che si chiamerà il pozzo, poi il gioco che sarà una qualunque combinazione o sequenza, cioè ovvero le cose che potremmo mettere in tavola. Le combinazioni sono degli insiemi di tre o quattro carte dello stesso valore, ma con un seme differente. Le sequenze invece, o scale, sono un insieme formato da tre minimo, a fino a 13, potrete vedere perché 13, di carte dello stesso seme ordinate esattamente per numeri, senza alcun buco in mezzo. 13 infatti sono le carte che vengono date normalmente della scala 40, ora sapete perché? Perché il massimo della scala che si può fare è di 13 carte. Ecco ho spiegato il motivo. Pronti? Andiamo a vedere come definire la partita. L'importante è che all'inizio definite qual è il mazziere iniziale che mischierà le carte e inizierà la distribuzione. Poi ovviamente di turno in turno il mazziere cambierà e diventerà il nuovo mazziere colui che è stato il primo giocatore. Andiamo. Il giocatore che funge da mazziere distribuisce 13 carte per giocatore in senso orario, quindi partendo dal giocatore alla sua sinistra si usano due mazzi da 54 carte, quindi si usano due jolly per ognuno dei mazzi, 4 in totale. Al termine della distribuzione delle carte si mette una a vista nel pozzo e ogni giocatore può prendere visione delle proprie carte. Iniziamo a parlare del valore delle carte. Ogni carta dal 2 al 10 ha un valore pari esattamente al suo numero, quindi 4 vale 4, 10 vale 10, il 7 vale 7 e così via. Tutte le figure valono 10 punti, l'asso vale 1 punto se utilizzato come un 1, quindi sotto il 2, oppure vale 11 se viene utilizzato in cima alla scala dopo il re. I jolly. I jolly valgono 25 punti se li avete in mano, quindi quando dovrete pagare alla fine della partita, ma in realtà durante la partita, quando li posizionerete in campo, assumeranno come valore quello della carta che stanno simulando. Quindi se metteremo ad esempio questo jolly insieme a queste due donne al posto di una donna, verrà 10 punti. Se invece lo mettiamo insieme a qualche cos'altro che ha un altro valore, ovviamente cambierà il suo valore di volta in volta. Inizia la partita il giocatore alla sinistra del mazziere e poi si prosegue in senso orario un turno per il giocatore. Al proprio turno il giocatore deve fare alcune cose. In primo luogo pescare una carta dal tallone. Ci sarà poi la possibilità di pescarla anche eventualmente dal pozzo, ma vedremo dopo come. Di base si prende dal tallone la carta, la si aggiunge alla propria mano, si vede se si può effettuare un'apertura, se si può si fa quello che si può, se si è già aperto nei turni precedenti si vede se si può aggiungere carte qua e là sul tavolo, altrimenti si passa alla fase finale direttamente che è lo scarto di una carta. Ora per aprire sono necessari avere almeno 40 punti da mettere in tavola formati da almeno dei tris, e come ho detto prima di stessi numeri ma con diversi semi oppure stesso seme, carta in scala. Vediamo ad esempio qua, io ho creato un tris, quindi no, anzi un poker addirittura di 9, 10, jack e donna. Tuttavia abbiamo detto che queste vargono 10 punti, per cui sono 10, 20, 30, 39 punti. Non sono abbastanza per me per poter scendere. Non ho altre combinazioni da giocare e quindi non ho alternativa se non scartare. Ogni giocatore poi effettua il suo turno. La carta pescata, se non piace, può essere anche immediatamente scartata. Non è obbligatorio tenersela in mano e scartare un'altra cosa al suo posto. Si prosegue in questo modo in un giocatore fino a quando non riesce a effettuare un'apertura. Ecco, ad esempio, io ho rappescato un jolly. Un jolly posso usarlo come mi pare. A questo punto potrei fare diverse cose. Potrei metterlo qui, al posto del re, e fare una scala lunga, 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 e attaccare tutte queste carte qui. E a quel punto ho più di 50 punti con questa unica scala. Oppure, in alternativa, potrei farlo valere come una donna e aggiungerlo a queste due donne e fare due trisse separati. Questa scala e questa qui. Ad esempio, scelgo questa combinazione. Sono ancora nel mio turno, non ho ancora scartato. Pongo le carte giù sul tavolo. Si verificano che ci siano almeno i 40 punti. Ci sono. Si è fatta l'apertura. Posso passare a scartare una carta. Durante la partita c'è la possibilità di recuperare i jolly che sono stati usati da noi stessi o dagli avversari mettendovi la carta corrispondente. A tal fine, se mettere un jolly in una scala rende subito evidente quale carta stiamo cercando di simulare perché se la metto tra un 9 e un 7 è chiaramente l'8 di quel seme. Quando si mettono giù delle combinazioni di questo genere invece per numero e non per seme ci può essere un dubbio. È sempre meglio dichiarare quale delle due donne mancanti rappresenta il jolly. Comunque è abbastanza convenzionale di solito metterlo se ce n'è due di due colori diversi dal colore che si vuole rappresentare. In questo caso ad esempio dico che è la donna di cuori e tendo a metterla vicino a quella di denari che è rossa. Se avessi voluto dire donna di fiori la mettevo vicino a quella di picche. Però ripeto, l'importante è dirlo. Questo è solo per ricordarselo meglio. Poi d'altra parte se ci sono due donne nere o due donne rosse dobbiamo specificarlo perché sennò è totalmente incomprensibile. Si può recuperare una carta jolly dal tavolo quindi ponendovi la carta corrispondente. Ad esempio in questo caso un giocatore è la donna di cuori lo pone al suo posto e si può prendere jolly e tenerselo in mano. Poi magari cercherà di usarlo perché sennò alla fine costerà dei punti tenerselo in mano però non è detto e che gli serva subito lo tiene magari per i turni dopo. L'importante è che aggiungendovi una carta per prendere jolly abbiate già effettuato almeno un'apertura. Quindi il giocatore che ha messo giù il jolly può riprenderselo facilmente perché lui stesso ha già aperto prima nel metterlo. Gli altri giocatori devono avere l'accortezza prima di riuscire a effettuare un'apertura da 40 punti o più sennò non potranno recuperare il jolly in questione. Una volta che un giocatore ha aperto quindi ha posizionato le prime cose in tavola ha delle opzioni maggiori sui suoi turni successivi. Innanzitutto all'inizio del suo turno pescherà sempre e a questo punto potrà fare diverse cose potrà creare delle nuove combinazioni di almeno tre carte ma senza dover più contare il punteggio in che esse valgono perché tanti 40 iniziali li ha già messi in campo. Oppure in alternativa potrebbe anche capitare che prende una carta che singolarmente viene aggiunta può aggiungere singolarmente una carta. Può aggiungerla non solo alle proprie combinazioni ma anche a quelle degli avversari per togliersi carte di mano. È chiaro che però magari aggiungendole qua e là potremmo aiutare gli altri a loro volta ad aumentare le proprie possibilità di combinazioni. Infine un giocatore che ha già effettuato un'apertura può anche andare a pescare la carta dal pozzetto quindi non è obbligato a pescare dal tallone. Tuttavia se sceglie di pescare dal pozzetto è obbligato a giocare quella carta immediatamente sul tavolo sia che sia in una nuova combinazione oppure aggiungendola ad una precedente. in ogni caso al termine del turno bisogna pur sempre scartare una carta. Quando un giocatore durante il suo turno pesca una carta che gli permette di creare l'ultima combinazione o comunque ne ha solo una di essere posta e riesce a liberarsi di tutte le carte pur avendone sempre una che deve scartare perché è obbligatorio avere lo scarto finale quindi si libera di tutte le carte nel momento in cui effettua lo scarto finale la partita anzi la mano della partita si dice conclusa perché è stata chiusa ricordatevi però che dovete avere sempre una carta da scartare non potete concluderle e rimanere senza niente in mano ma non scartare quindi qualcosa può essere complicata quando ci si ritrova con solo due carte in mano ci si dice infatti incartati con due carte perché si è incartati un po' perché pescandone una che va bene con quelle due non si possono mettere giù perché non si avrebbe scarti dall'altra parte se si pesca una carta singola che va bene con i giochi già presenti ci si libera di una sola carta ma comunque non si riesce a chiudere in quel frangente è importante dire ancora una cosa sugli scarti non si è liberissimo di scartare quello che si vuole se qualche giocatore ha già aperto dei giochi e quindi ci sono già delle combinazioni in tavolo un giocatore può scartare una carta messa diciamo tra virgolette cioè che si attacca da altre parti solo e solamente se non ha ancora effettuato la sua apertura se ha effettuato la sua apertura quella carta non può essere più messa nella pila degli scarti deve essere per forza aggiunta a meno che non sia esattamente la sua ultima carta e quindi scartandola effettua la chiusura della mano altra cosa importante da dire in ciascuna combinazione si può che essa che sia una scala oppure una combinazione di carte si può usare un solo giolli non si possono mettere due giolli nello stesso gruppo di carte per quanto riguarda la chiusura c'è da dire una particolarità può essere che un giocatore sia estremamente bravo o fortunato e che abbia contemporaneamente in mano tutte e 13 le carte per creare delle combinazioni e quindi di fatto ha una chiusura in mano come si suol dire questo rende irrilevante la carta che pesca qualunque essa pesca la può scartare perché ha tanto già tutte le carte in mano e le mette giù in questo caso un giocatore che ha la chiusura in mano non è neanche obbligato a raggiungere i 40 punti beh voi direte ma com'è possibile beh ma mettete che abbia un tris di 5 un tris di 4 un tris di 6 e 4 e 2 ecco è proprio il minimo sindacale come si suol dire o delle combinazioni 2 e 3 e 4 e 2 e 3 e 4 e 2 e 3 e 4 e un 5 si fa poco ma se riuscite in un solo colpo a mettere giù tutto i 40 punti non vi verranno richiesti al termine di ogni mano i giocatori che non hanno chiusi dovranno pagare dei punti di penalità che sono pari ai punti che hanno in mano dovranno farne la somma le carte valgono il loro valore le figure valgono 10 gli assi quando si pagano in mano a fine a fine della partita valgono sempre 11 punti i giolli in mano hanno il loro simpatico punteggio di 25 punti quindi tenerseli in mano può essere un grosso problema questo vale per i giocatori che non hanno chiuso ma quantomeno sono riusciti a fare l'apertura se invece un giocatore non è neanche riuscito a fare l'apertura e quindi ancora 13 carte in mano di fatto non le sta neanche a contare paga automaticamente 100 punti i punti che voi andrete a pagare si sumeranno mano per mano ovviamente il giocatore che ha chiuso fa 0 in quel giro quindi non paga nulla fino a quando i giocatori non raggiungono il punteggio limite è stabilito inizio partita per essere eliminati dal gioco il giocatore che supera il punteggio limite viene eliminato e proseguono gli altri fino a quando non resta un solo vincitore ancora un paio di cose riguardo al gioco una delle strategie più tipiche per cercare di vincere è quella di non aprire subito appena si hanno un minimale di 40 punti perché si tende a scoprire un po' il proprio gioco gli avversari lo vedono si fanno un'idea riuscire a tenere coperti il più possibile il proprio gioco è sempre la cosa migliore in modo che gli altri non facciano andare via le carte che servono a voi quindi di solito i giocatori più esperti tendono a aprire quando sanno che vanno subito a chiudere oppure comunque ci vanno vicinissimi che rimangono con pochissime carte in mano quindi magari non chiudono ma pagano molto molto poco perché aprire ma poi vedere gli altri chiudere vuol dire magari pagare non 100 ma parecchi punti proprio per il motivo che si tende a volte a giocare molto abbottonati può capitare se si è in tanti a giocare che terminino le carte nel tallone in quel caso si riprendono le carte dal pozzo tranne l'ultima scartato ovviamente per ovvie ragioni perché è utilizzabile se uno aperto vengono rimischiate e riposte nel nuovo tallone in modo che ci sia di nuovo la possibilità per tutti quanti di pescare io con questo vi saluto e vi do appuntamento al nostro prossimo video